Il prossimo 25 aprile sarà il settantesimo della liberazione di Fano e l'AMPI sezione dei Dantinori, come ormai da diversi anni sta facendo, organizza una serie di iniziative per questo appuntamento importante. Una di queste è sicuramente quella del monumento a tutti i partigiani e i partigiani fanesi e per il prossimo 25 aprile stiamo già dando vita a una raccolta di fondi pubblica perché questo monumento possa essere patrimonio di tutta la cittadinanza democratica antifascista di Fano. Questo puscolo che raccoglie 50 disegni sono stati realizzati dai ragazzi delle scuole medie fanesi e dai quali lo scultore Michele Ambrosini trae spunto per realizzare il monumento ai partigiani. Ci sono tre punti istituiti a Fano per la raccolta di fondi che sono la CGL in Viale Bozzi, l'Emporio Altra Economia e il punto macrobiotico a Fano. Quindi invitiamo tutti i cittadini a poter lasciare un minimo contributo e ritirare in cambio questo puscolo. Un'altra iniziativa che vogliamo assolutamente ricordare e sottolineare è quella della pubblicazione del libro su Le Dantinori, la staffetta partigiana alla quale abbiamo intitolato la nostra sezione e le storiche Maria Grazia Battistoni e Paola Moretti stanno ultimando e che manderemo in stampa per il prossimo 25 aprile. È possibile prenotare al costo di 5 euro la pubblicazione inviando un'email all'ampi fano.chiocciolalibero.it Grazie a tutti